La passione per la bici, l'essere in mezzo al verde, alla natura e ascoltarsi. Per me la bicicletta è una passione che mi ha portato anche a questo. Gioia, serenità, voglia di andare avanti, di sperare le difficoltà e di vincere. Gioia, serenità, voglia di andare avanti, di sperare le difficoltà. Gioia, serenità, voglia di andare avanti, di sperare le difficoltà. Per me andare in bici è una valvola di sfogo. È il momento nel quale posso staccare la testa dai problemi che si hanno a casa, in famiglia, all'università, allo studio. È proprio una cosa che mi fa stare bene. Gioia, serenità, voglia di andare avanti, di sperare le difficoltà. Gioia, serenità, voglia di andare avanti, di sperare le difficoltà. Passione, divertimento, libertà.